Buongiorno a tutti, io sono Maurizio Sant'Angelo e sono il capogruppo al Senato. Oggi sarei dovuto andare dal Presidente Napolitano. In maniera formale, nel rispetto delle istituzioni avrei dovuto dire buongiorno signor Presidente e invece oggi facciamo un'altra cosa. Tolgo la cravatta perché la formalità ne facciamo meno e dico quello che normalmente siamo abituati a fare. Buongiorno verevoli cittadini, benvenuti alle prime consultazioni di questo mondo con i cittadini. Abbiamo già detto i miei colleghi dei motivi che ci hanno spinto a non partecipare a questa farsa. L'abbiamo detto, una partita dove le regole sono state truccate e si conosceva già prima il risultato. Quindi non avrebbe avuto senso. Realmente quello che è accaduto soprattutto negli ultimi giorni ha dell'incredibile. Un Presidente del Consiglio che presenta mercoledì un nuovo programma di governo e lo presenta soltanto alla stampa e non alle camere. E il giorno dopo viene sfiduciato da una segreteria di un partito e qualcosa che non c'è scritta in nessuna Costituzione del mondo, nemmeno in quella italiana. Per cui il Presidente della Repubblica anche questa volta ha dimenticato che la nostra è una Repubblica parlamentare e doveva assolutamente fare un passaggio per la fiducia o la sfiducia all'interno del Parlamento e non lo ha fatto. Quindi sicuramente questo non è un rispetto per l'istituzione, è qualcosa che noi non accettiamo. E' il primo caso che un Presidente del Consiglio venga eletto come sindaco. Avremo un Presidente del Consiglio che è eletto come sindaco. Quindi noi a questa farsa non ci stiamo. Continueremo a comunicare così come stiamo facendo oggi con voi. E nel frattempo magari il Presidente della Repubblica si collegherà ai streaming e vedrà quello che sta accadendo anche oggi davanti piazza del Parlamento. Grazie. Grazie.